La campagna onorisca ha un ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura della protezione civile. Nel nostro territorio ci sono istituzioni, associazioni di volontariato impegnatissime in tutte le campagne di protezione civile con grande professionalità ma anche con grande generosità. Ci siamo fatti onore in ogni angolo del paese attraverso i nostri servizi di protezione civile ma davanti a un'emergenza, davanti a un problema di protezione civile e il senso è che ciascun cittadino o ciascuna cittadina può fare la propria parte conoscendo le pratiche fondamentali, le buone pratiche fondamentali, diffondendole ed essendo ciascuno di noi e ciascuna di noi preparati ad affrontare le emergenze. Purtroppo in questi anni le abbiamo vissute di carattere sismico, di carattere idrogeologico collegate ovviamente alla pandemia, abbiamo sempre saputo dare ottima prova di noi ma dobbiamo continuare a diffondere questa cultura.